Noi abbiamo un Paese da ricostruire, un Paese che deve avere al suo centro la scuola e i bambini. Quei bambini io credo sia non solo una grande impresa sociale, ma una grande impresa civica. La pandemia che ha esasperato le situazioni, ma le diversità c'erano anche prima, le diseguaglianze c'erano anche prima. Oggi sono insostenibili, ma c'erano anche prima. Un Paese che ha il più alto tasso di dispersione d'Europa, la più alta differenza fra territori dello stesso Paese.